Per risvegliare nei cittadini intanto l'orgoglio del nostro paese e poi per ricordare a tutti sia i diritti e i doveri, soprattutto i diritti perché credo che nel corso degli anni ce li hanno lesi parecchi o consumati. Hanno scelto così la data del 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia, per distribuire copie della Costituzione nelle piazze aretine. Si tratta di un'iniziativa dello spicci GL Rezzo, il sindacato pensionati italiano. La Costituzione rappresenta il punto di arrivo o meglio di partenza della democrazia in Italia. È frutto della resistenza, è una Costituzione fondamentalmente antifascista e quindi noi vogliamo essere testimoni. In tutta la provincia, in 50 piazze, lo SPI, la CGL vuole regalare queste piccole Costituzioni con la speranza che ognuno se ne faccia partecipi, legga la Costituzione perché siamo profondamente convinti che in molti ancora non l'hanno letta e chi la legge ne rimarrà meravigliato. Per il senso che è dentro a questa legge, libertà, eguaglianza e la Repubblica libera da ogni forma di oppressione e di fascismo. Nasce da un periodo veramente brutto. In Europa ci sono momenti, particolarmente in Europa e nel mondo, momenti brutti che aspirano a questo, non aspirano a quello che hanno, aspirano a diventare liberi, a diventare democratici e quindi noi che l'abbiamo la dobbiamo conservare. Ecco perché sono fiducioso nei cittadini italiani che sanno apprezzare quello che è la Costituzione della Repubblica.